buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di non mi rassegno la rassegna stampa commentata di italia che cambia allora oggi puntata bella piena per cui cerchiamo di andare un po' spediti parliamo del debito dei paesi più poveri che verrà sospeso per sei mesi grazie ad una decisione presa ieri dal g20 parliamo della situazione in vietnam in iraq legata all'emergenza coronavirus e dell'animale più lungo del mondo ma non vi dico altro iniziamo subito anzi no prima di iniziare vi ricordo come sempre che trovate tutte le notizie di cui parlo tutti gli articoli a cui mi riferisco durante la rassegna sulla pagina rassegna stampa di italia che cambia.org di cui vi lascio il link in descrizione di questo video e che questo format è disponibile anche in versione podcast su spreaker e spotify va bene cominciamo c'è un articolo su internazionale appunto che riporta che ieri il g20 quindi il gruppo che racchiude le 20 paesi con le economie più grandi del pianeta ha deciso di sospendere per sei mesi il pagamento del debito da parte dei paesi più poveri per i paesi coinvolti si tratta di un risparmio di circa una ventina di miliardi di dollari che potranno essere impiegati nella lotta contro il virus questa sospensione che tra l'altro era stata richiesta già da diversi giorni da parte dell'unione africana e anche dalle società civili dei vari paesi del continente riguarda 76 paesi complessivamente di cui 40 si trovano nell'africa subsahariana com'è la situazione del contagio in africa? in realtà c'è purtroppo un rapido aumento dei contagi da covid-19 e diversi analisti iniziano a temere che il continente possa diventare il prossimo vero e proprio centro della pandemia soprattutto considerando che i suoi sistemi sanitari e il suo sistema economico finanziario sono molto meno attrezzati rispetto a quelli europei e occidentali in generale ma anche a quelli di molti paesi asiatici e quindi lì effettivamente l'epidemia di covid potrebbe fare molti molti più danni che da noi quindi diciamo c'è stata questa decisione che sicuramente è un primo passo molto importante di sospendere per sei mesi il pagamento del debito da parte di questi paesi però c'è anche chi sta già pensando al passo successivo che potrebbe essere un annullamento molto più significativo ad esempio Macron, il presidente francese, che in un discorso di due giorni fa ha chiesto un annullamento massiccio del debito dei paesi africani ovvero appunto una misura che è molto più incisiva rispetto a una sospensione dei rimborsi e tuttavia su questo secondo punto le opinioni sono un po' più discordi da parte dei vari paesi coinvolti perché ci sono diversi paesi che non sono proprio felici all'idea di impegnarsi ad annullare il debito o comunque parte del debito dei paesi africani in particolar modo la Cina sembra essere quella meno convinta soprattutto perché da alcune stime sembra che il continente africano abbia contratto il 40% dei propri debiti proprio con Pechino e ciò è avvenuto soprattutto in relazione al progetto della nuova via della seta su cui tra l'altro sto pensando di fare un approfondimento nei prossimi giorni ditemi se è un argomento che vi può interessare comunque fatto sta che all'interno di questi accordi legati alla via della seta molti paesi africani si sono indebitati con la Cina per costruire delle nuove infrastrutture e quello che succede è che spesso i paesi africani non riescono a restituire il debito che hanno contratto e va a finire che le infrastrutture stesse a un certo punto diventano proprietà del governo cinese o di qualche azienda cinese è la famosa trappola del debito niente di particolarmente nuovo di sicuro non qualcosa che è inventato la Cina ma qualcosa che sta avvenendo comunque in questo momento in molti paesi africani comunque al di là delle comprensibili rimostranze di Pechino che non vuole cedere alla proposta francese quello che è stato già fatto è comunque un passettino in avanti un'altra delle tessere del puzzle che viene tolta e fa vacillare anche il tabù del debito che è un argomento che fino a ieri non poteva quasi essere nominato e che oggi torna ad essere sul tavolo della discussione quindi succedono cose interessanti come al solito va bene passiamo all'altro accantoniamo un attimo questo argomento ci sono due articoli sul post che indagano gli effetti dell'epidemia in due paesi piuttosto lontani dai riflettori il Vietnam e l'Iraq allora il Vietnam è stato spesso citato come un esempio virtuoso di contenimento del contagio perché pur condividendo circa mille chilometri di confine con la Cina e quindi essendo molto esposto soprattutto in un momento iniziale alla possibilità che il virus si diffondesse in maniera molto forte anche all'interno del proprio territorio in realtà è riuscito a mantenere la situazione sotto controllo tra l'altro non disponendo di un sistema sanitario particolarmente avanzato e appunto di in generale di strutture non particolarmente moderne fatto sta che attualmente ci sono meno di 300 casi ufficiali su quasi 100 milioni di abitanti l'articolo del post si fa due domande principali facendo riferimento anche a tanti altri articoli che sono usciti soprattutto sulla stampa statunitense e la prima di queste domande è come ci è riuscito la strategia del Vietnam è stata quella di intervenire fin da subito con una serie di misure restrittive imposte dal partito vietnamista questo è bello dal partito comunista vietnamita che è al potere dal 75 da quando il Vietnam è stato riunito e misure come la chiusura immediata delle scuole già a febbraio quando ancora il contagio era molto basso la cancellazione di tutti i voli da e per la Cina l'isolamento di intere aree del paese anche se c'erano solo pochi casi e il tracciamento dei contagiati tuttavia fanno notare alcuni che molto di queste misure restrittive sono state applicate con l'uso della forza ad esempio grazie alla mobilitazione forzata di operatori sanitari e militari scusate sono come al solito abbastanza dislessico soprattutto la mattina nel pomeriggio in genere è migliore attraverso la sorveglianza e l'intrusione nella vita delle persone c'erano dei cartelli e annunci per le strade della città di Ho Chi Minh che ci sono tuttora quanto pare che ricordano che chi non indossa una mascherina o infetta altre persone può rischiare fino a 12 anni di carcere e pare che una persona sia stata effettivamente condannata a 9 mesi di prigione per essersi rifiutata di indossare una mascherina insomma questo genere di misure qua la seconda domanda che si pone l'articolo in realtà va un po' più a fondo della questione e si chiede se i dati siano reali perché non è così scontato diversi esperti ritengono abbastanza improbabile che il paese, che un paese come il Vietnam relativamente povero con quasi 100 milioni di abitanti vicino alla Cina possa avere solo qualche centinaio di casi e il dubbio è che il paese o non sia riuscito a individuare molti casi di contagio oppure che pur facendolo stia evitando di rendere noti questi casi a supporto di questa teoria ci sarebbe fra l'altro anche la nuova legge introdotta ieri proprio ieri dal governo vietnamita contro le fake news che introduce multe molto salate fino a 500 euro all'incirca per chi pubblica informazioni non coerenti con quanto dichiara il governo o per chi critica la strategia del governo quindi non c'è una risposta però sicuramente un sacco di domande interessanti da farsi molto diversa molto diversa è invece la situazione in Iraq di cui parla il secondo articolo il paese sembra sull'orlo del collasso perché lì l'epidemia in realtà è andata a sovrapporsi ad una crisi economica, politica e sociale che era già in corso non so se vi ricordate ne abbiamo già parlato ma diversi mesi fa prima che succedesse tutto questo casino qua proprio su questa rubrica della situazione in Iraq in realtà anche in Iran, Siria e tanti altri paesi del Medio Oriente ovviamente la situazione attuale appunto potrebbe dare il colpo definitivo a un sistema che era già sull'orlo del collasso lo Stato sembra vicino al fallimento a causa soprattutto del calo del prezzo del petrolio dovuto a tutta quella vicenda di cui abbiamo parlato anche due giorni fa del mancato accordo fra Russia e il paese dell'Opac sul prezzo del petrolio che ha mandato giù a picco il prezzo del petrolio e un paese come l'Iraq che basa la sua economia sul loro numero ne ha risentito in maniera molto pesante ma non è solo quello perché il paese poi si trova in mezzo appunto a tensioni sociali si trova in mezzo alle tensioni anche fra Iran e Stati Uniti e tra l'altro la settimana scorsa è stato nominato un primo ministro che però sembra che non riesca ad ottenere il sostegno necessario per governare così come i due prima nominati precedentemente quindi siamo in mezzo anche a una grave crisi politica la tensione sociale era già molto alta prima con proteste e manifestazioni che erano sfociate già prima spesso in scontri violenti e anche diversi morti e adesso a tutta questa situazione appunto si aggiunge la crisi sanitaria che il paese non è minimamente pronto per gestire e rischia di fare un po' esplodere la bomba lo Stato attualmente non è già più in grado di pagare i dipendenti pubblici di pagare le pensioni né di tenere in piedi il sistema sanitario tant'è che ieri il ministro della salute iracheno ha chiesto l'intervento ai donatori privati per poter finanziare la cura dei malati di Covid-19 fatto sta che diversi analisti pensano che lo Stato non riesca a tenere botte e possa finire in una situazione di disgregazione e caos un po' simile a quella che abbiamo osservato a quello che abbiamo osservato succedere in Siria dopo la morte di Gheddafi va bene ultima notizia del giorno che non c'entra nulla però ci tenevo a darvela perché mi ha affascinato molto quando l'ho letta dei ricercatori all'interno insomma durante una missione nelle profondità degli oceani hanno avvistato quello che potrebbe essere l'animale più lungo del mondo mai visto finora ed è un sifonoforo che non conoscevo non sapevo l'esistenza di questo tipo non sapevo come si chiamasse l'ome tecnico di questo tipo di animale che sarebbe un invertebrato marino una specie di serpentone che era lungo 47 metri fate conto una specie di grattacielo un palazzo di 11 piani sottilissimo e disposto in questa sorta di immensa spirale bianca guardatevi le foto perché sono molto molto belle e molto suggestive va bene ho voluto darvi questa notizia così perché mi sembrava non lo so mi piaceva per chiudere questa puntata comunque ho come al solito sporato 10 minuti quindi vi saluto molto frettolosamente vi do appuntamento come sempre a domani sempre alle 10 sempre per 10 minuti con una nuova puntata di io non mi rassegno e vi ricordo come ogni giorno che chi si rassegna è perduto ciao